Sin City è un posto in cui entri tenendo gli occhi aperti. O non esci più. Come ci sono arrivato qui? Che cosa ho fatto? Sei l'unico che abbia mai amato. La morte è esattamente come la vita a Sin City. Vince sempre. Non abbiamo mai pensato di avere possibilità contro l'uomo più potente dello Stato. Forse diventerò pazza. L'idea non mi dispiace affatto. Senatore. Hai capito che ti sei messo contro? Ti sei messo contro Rourke. Sono pronto al tuo lato peggiore. Neanche puoi sognarlo al mio lato peggiore. Ti conviene uccidermi ora? Eva. Mi ha tradito. Uccidilo. Per il potere e per i soldi. Mi hai reso una donna molto ricca. Non potrai impedirlo. Stavolta hanno passato il limite. Mi serve il tuo aiuto. Affronteremo un mucchio di gente armata. Voglio uccidere Rourke. Conta su di me. Il potere è qualcosa di fragile. Voglio che conoscano il prezzo della sconfitta. Allora... Chi vuole giocare? Sono arrivati i guai. No, è arrivato Natale. Stai scatenando una guerra tra gang. E sono tutti dei criminali. No, è arrivato. No, è arrivato. Non ci vuole mai perdere il controllo. No, è arrivato. Non ci vuole mai perdere il controllo. Vice Golden Globe Tina Fey potrebbe produrre e recitare in un nuovo film sulle streghe per la Disney. The Wrap segnala che il film è ancora senza titolo e che questo progetto potrebbe sembrare agli appassionati il sequel di Hocus Pocus, ma il portavoce dell'attrice ha chiarito che si tratterà di un film totalmente inedito. Nulla a che vedere con Hocus Pocus 2, chiaro. Presto nuovi aggiornamenti, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!